Ciao ragazzi e bentornati, secondo video di giornata, un video un po' particolare che riguarda un nostro giocatore. Parliamo non più di Allegri, non più di mercato, altre cose, ma delle parole di un nostro calciatore che nel canale YouTube della Lega Calcio Serie A ha parlato di Juve, insomma ha parlato bene della Juventus. E su questo voglio bullarmi un po' anche io, perché voglio fare una piccola ricostruzione con voi su quello che è accaduto quest'anno per quanto riguarda il suo percorso. Per cui prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, forza e coraggio, che è importante, e vi invito a commentare, a dirmi la vostra opinione sotto nei commenti. Allora, partiamo da un presupposto importante. Dusan Vlahovic quest'anno sta facendo veramente una stagione enorme dal punto di vista dei gol. Ed era una cosa anche che non mi aspettavo, stiamo veramente su delle medie altissime di minuti e gol segnati, anche più alta rispetto a quando stava alla Fiorentina. Per cui mi fa estremamente piacere questo suo rendimento. E sono anche convinto che il modo di giocare della Juve non lo aiuti più di tanto. Credo invece che con un modo di giocare un pelo più offensivo, ecco, Vlahovic possa essere sicuramente molto più devastante in termini di gol, di situazioni create, eccetera. E sono sicuro che l'anno prossimo vedremo un altro Dusan, perché rimarrà. Perché rispetto a quanto dice nell'intervista che ha lasciato alla Lega Serie A, intanto parla molto bene della città, parla molto bene della squadra, dice che si emoziona quando va al museo. È stato veramente un vero e proprio elogio alla squadra e alla Juventus che lo ha accolto. E dice poi, il mio sogno è rimanere alla Juve e vincere la Champions qui. Fantastico. Almeno siamo molto lontani da quel tipo di prospettiva ad oggi. Però vedere un giocatore così legato alla squadra fa sicuramente piacere. Sono delle belle parole al miele che accolgo a braccio aperte. Perché se vi ricordate quest'estate, quando facevamo i collegamenti da Los Angeles, quando si parlava effettivamente di uno scambio, Lukaku, Vlahovic, eccetera, eccetera, eccetera. Tanti erano d'accordo con quello scambio. Io no. E ho combattuto anche con le mie opinioni dicendo, guardate ragazzi che è una cazzata enorme quella che stiamo per fare. Perché secondo me la Juventus stava effettivamente ragionando su quella situazione, più per una questione economica in realtà. Però sarebbe stato un risolvere il problema oggi ma ne un altro domani, perché Lukaku fra tre anni è un altro giocatore rispetto a quello di quest'anno o a quello che era l'anno scorso. Vlahovic invece ti dà quella prospettiva. Secondo me il sacrificio economico che abbiamo fatto per tenerlo, magari anche andando ancora più in rosso nel bilancio, sarà pienamente ripagato fra qualche anno. Perché secondo me Vlahovic poi andrà via. Se arrivasse, che ne so, un'offerta del Real probabilmente andrà a ragionarla e ad accettarla. Però insomma questo è lo status nostro in questo momento. È piuttosto basso rispetto alle squadre top europee. Dobbiamo tornare ad essere tra le prime otto in maniera stabile e rimanerci. Però vi dico Vlahovic, fino a quel momento là rimane un nostro giocatore ed è un valore che cresce, non un valore che va a scemare, come nel caso di Lukaku. Ed era tutta là la situazione. C'erano dei ragionamenti di natura tecnica in primis e poi economica. Va bene, risolviamo, facciamo la plusvalenza, ma facciamo le cagate che faceva Paratici con le plusvalenze sull'immediato guadagno, ma poi tra ammortamenti e altre situazioni ci si inguagliava peggio. Invece con Vlahovic in rosa possiamo dire che abbiamo, secondo me, un asset molto interessante che può essere valorizzato ulteriormente e che non andrà a svalutarsi per via dell'età, eccetera. Però vi raccontai molto bene la sua posizione per quanto riguardava l'ipotetico scambio con Lukaku, l'ipotetica trattativa. lui non voleva andare via dalla Juve e ve lo dissi perché aveva fatto queste confidenze a gente che era vicina alla Juve che in quel momento era lì a Los Angeles e che mi disse esattamente Anto, io ho parlato con Chiellini, ho parlato con... e mi hanno detto che Vlahovic non vuole assolutamente andare via il Chelsea perché era il Chelsea, no? all'epoca la squadra che... che insomma stava dietro a Vlahovic un po', eccetera. Che poi neanche più di tanto perché in realtà stava dietro a Vlahovic e la vedeva come un'opportunità per sbarazzarsi di Lukaku. Poi fortunatamente è arrivata la Roma ma se guardiamo adesso il confronto tra Lukaku di prima e Lukaku di oggi possiamo dire che abbiamo fatto bene ragazzi a tenereci Vlahovic anche in vista anche del rendimento vedendo un po' il rendimento che ha lo stesso Dusan alla Juventus. Aggiungo un'altra cosa che ho condiviso anche su Twitter che mi ha fatto parecchio ridere perché... allora a luglio Zazzaroni ok diceva no scusate il 21 agosto Zazzaroni con Vlahovic non vince il campionato con Lukaku lo vinci o perlomeno te la giochi con il Napoli Vlahovic finalizza ma non sa giocare con la squadra quando entra Milik invece la Juventus gioca in 11 Zazzaroni questo invece è il giornale di oggi la Champions della Juve passa dai gol di Vlahovic mai più senza è il booster di Allegri raddoppia punti e medie condusano i biagoneri salgano da 1 a 2,16 punti a partita cresce anche la percentuale di vittorie dal 20 al 64% in campionato ha segnato finora 15 retti 10 decisive il centroavanti ha garantito a Max un più 13 in classifica possiamo dire di aver avuto ragioni su Dushan per i valori che esprime eccetera e ricordo anche che tanti come stanno battagliando in questo momento per la situazione Allegri in Allegri out che non c'è nulla oltre Allegri prima non c'era nulla oltre Lukaku ora non c'è nulla oltre Allegri attenzione possiamo sempre migliorare sempre migliorare possiamo sempre essere più aperti ad abbracciare anche un po' di innovazione anche di novità una ventata d'aria fresca che è quello che serve a questa squadra e non nascondo che il primo anno di un eventuale arrivo di un Tiago Motta eccetera ci saranno sicuramente le classiche discussioni ah ci fosse stato Allegri ah ci fosse stato quell'altro ok la cosa che dobbiamo tornare a fare è vincere perché vincere è l'unico modo per unire un pochettino vincere creandoci un'identità forte seria da Juventus un'identità che sia tangibile riconoscibile anche dagli avversari e questa cosa da un bel po' l'abbiamo persa ragazzi da un bel po' ed è quello che dobbiamo ritrovare per ritrovare uno spirito di unione perché è inutile nella sconfitta non siamo una tifoseria unita anzi siamo una tifoseria che tende a disgregarsi perché alla base in questo periodo c'è anche un'intolleranza nei confronti delle opinioni altrui io ripeto ho letto tantissime opinioni pro Allegri eccetera mai mi son sognato di definire quelli là che la pensavano in maniera differente da me come degli stolti degli idioti o dei tonti perché non è così non funziona così nella discussione ognuno rimane dalla propria poi arriverà il momento in cui il calcio poi ci unirà si tratta solamente di segmenti di passione che non possono esgregare così tanto sia il dialogo sia il tifo stesso questo vi dico detto ciò io domenica al 90% dovrei essere allo stadium ok ve la tiro fuori io la Juve dalla crisi ve la tiro fuori io ok la mia presenza basterà speriamo speriamo le ultime parole famose aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti iscrivetevi al canale e sempre fino alla fine forza Juve ragazzi grazie 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 grazie